Adesso questi ruolzzo. Fungati bene! Bambini! Sono были capiti! Ho scambio le mani, e cazzo telefonato così! Ho scambio le macchine! Ho scambio i lacchi di francesco! Ho scambio le macchine! Ho scambio le macchine! Ho scambio le macchine! Uh, hai da quella macchina! Eh, uuh! Meta le macchine! Ci sono in capire che non vale! Io per te sento! E' un po' di cose da fare le mie mani! Eh, che cazzo mia è paura di! E' un po' di cose! E' un po' di cose che è sui sbagliato! Grazie a tutti.